In occasione del 74esimo anniversario della liberazione d'Italia, giovedì 25 aprile, il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, deporrà una corona d'alloro davanti al monumento ai caduti che sorge sul porto di San Marco di Castellabate, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari e della sezione locale dell'Associazione dei Marinai d'Italia. Il programma prevede il raduno in piazza Meola alle ore 9.45, la benedizione della corona di Alloro in piazza comunale e il corteo verso il porto per la deposizione sul molo Velilla. Il 25 aprile torna la festa della liberazione, una data che rappresenta un passaggio fondamentale per la storia d'Italia, commenta il sindaco Costabile Spinelli, un momento di riflessione importante che deve unire tutti gli italiani per guardare al futuro della nazione, mantenendo viva la memoria e per trasmettere alle giovani generazioni valori di coesione e di unità.